Emerge dal libro degli Atti la natura della Chiesa, che non è una rocca forte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio, perché entrino tutti. La Chiesa è in uscita o non è Chiesa, o è in cammino, o è allargando sempre perché entrino o non è Chiesa. È una Chiesa con le porte aperte, sempre con le porte aperte. Io quando vedo qualche chiesetta qui, in questa città o nell'altra diocesi da dove vengo, con le porte chiuse, questo è un segnale brutto. Le Chiesse devono avere sempre le porte aperte perché questo è il simbolo di cosa è una Chiesa, sempre aperta.